Un saluto da dottor Palmas, ti mostro un altro caso risolto col nostro sistema bocca bionica. Quello che vedi è un paziente che è arrivato al mio policlinico senza i denti, portatore di protesi mobile, nota come le labbra erano proiettate verso l'interno della bocca in quanto mancava il sostegno da parte dei denti. L'osso macellare è molto riassorbito, anche la mandibola non aveva più osso cristale. Abbiamo eseguito una preview di quello che sarebbe stato il risultato ottenibile di dove avremmo dovuto posizionare i denti. Abbiamo proceduto con la chirurgia, posizionato dei provvisori che sono stati poi cambiati dopo sei mesi. Questi sono gli impianti dentali che sono stati posizionati. Abbiamo posizionato impianti sia sull'arcata superiore che inferiore, 8 nella parte superiore e 6 su quella inferiore e successivamente su questi le protesi. Quello che vedi è la TAC 3D prima e dopo l'intervento. Fai attenzione, tutta la parte nera che vedi qua sulla sinistra è la zona che abbiamo dovuto bioemulare con le protesi realizzate con il nostro sistema bocca bionica. Sulla destra vedi le protesi provvisorie con la barra di sostegno e gli impianti inseriti. Questo è il risultato finale e queste sono le protesi che abbiamo realizzate con il nostro sistema. Queste sono delle repliche di denti reali, scansionati dei denti perfetti che vengono poi riprodotti in fisico con i robot. I robot non si stancano, non bisticciano con la moglie e fanno esattamente quello che i designer hanno deciso in base alla progettazione realizzata col computer. Con l'intelligenza artificiale andiamo poi a settare i punti di contatto. Guarda come la luce colpisce le superfici dello zirconio e come l'effetto madre perla dona a questo sorriso un effetto del tutto indistinguibile da denti naturali. Ovviamente il nostro sistema bocca bionica prevede lo stocking cloud, la memorizzazione dei denti, delle forme del paziente. Nel caso in futuro dovesse avere dei problemi, noi con un click potremo riprodurre in fisico i denti danneggiati o sostituirli completamente con magari futuri materiali che usciranno sul mercato. Questo è il risultato finale e questo è l'interno della bocca con le due protesi per realistiche e sono queste delle protesi che è raro trovare in giro con questa qualità. Nota al colore qua della gengiva, del tutto indistinguibile da una gengiva naturale. Un paziente che ritrova la gioia di sorridere, di vivere, di mangiare, di stare con le persone. Una bocca completamente bionica tutta su impianti dentali ma che nessuno potrà dire essere una bocca artificiale al primo sguardo assolutamente. Spero che ti sia piaciuto questo caso. Ti invito a vedere tanti altri casi che ho risolto col sistema bocca bionica.